federico lauri meglio conosciuto come l'iconico federico fashion style è tornato alla ribalta sui social con una grande novità conosciuto per il suo personaggio televisivo eccentrico e per le numerose polemiche che lo hanno coinvolto il famoso hair stylist ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte il 8 novembre 2024 federico fashion style ha pubblicato un importante annuncio sui suoi canali social in particolare su instagram il parrucchiere ha condiviso un post in cui annuncia i nuovi preventivi dei suoi saloni sottolineando l'importanza della verità nel suo lavoro le polemiche riguardanti i suoi trattamenti invasivi la perdita di capelli e i prezzi eccessivi sembrano aver spinto federico a mettere fine alle voci errate che circolano su di lui il post su instagram si compone di sei slide di cui la prima è dedicata all'introduzione del comunicato e le altre cinque ai prezzi dei suoi saloni a anzio firenze milano napoli e roma federico invita i suoi followers a valutare i prezzi proposti e a giudicare con i propri occhi se siano effettivamente fuori mercato o meno il parrucchiere sottolinea l'importanza di offrire un'esperienza unica ai clienti e di rispettare le loro esigenze i commenti sotto il post sono discordanti con alcuni che sostengono la validità dei nuovi prezzi e altri che continuano a criticare il lavoro di federico la reazione del web al nuovo listino prezzi è stata varia con alcuni che definiscono la mossa strategica e altri che continuano a esprimere dubbi sulla trasparenza dei prezzi proposti la verità su federico fashion style sembra ancora essere oggetto di dibattito ma una cosa è certa la sua presenza sui